Torniamo a parlare di Superbike, per il primo dei due round italiani del campionato mondiale e delle derivate dalla serie, il primo round si è ospitato a Misano per quanto riguarda il nostro paese e Misano ha letteralmente consacrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel fenomeno di Toprak Rasgatioglu, il turco fa tripletta in terra italiana, conquista non solo la gara di Misano ma anche la leadership del mondiale, con una moto che tecnicamente è ancora inferiore rispetto alla Ducati ma appunto a sto giro il turco ha fatto un one man show e ci ha messo veramente una grande pezza per questo mondiale che adesso lo vede leader del campionato, era una gara che Ducati probabilmente poteva puntare a vincere ma non con Bautista che era uno degli altri contender rispetto al turco, annetto che Bautista lo è ancora oggi come contender però appunto Rasgatioglu oggi ha fatto il bello e il cattivo tempo e ha dimostrato di vincere in tutti i modi possibili e immaginabili. Per un mondiale che non correva da un mese, ricordiamo che l'ultima tappa del mondiale Superbike era ad Assen e adesso fino a luglio non se ne parlerà più nelle derivate della serie perché appunto la prossima tappa sarà Donington in 14 e il 15 di luglio, in questo mese però ci dovremo godere anche una volta quello che ha combinato Toprak Rasgatioglu perché con una moto inferiore che è la BMW M1000RR il turco è riuscito evidentemente a metterci quel qualcosa in più per guidare sopra i problemi che aveva questa BMW e in parte ancora oggi basta vedere le altre moto della casa di Monaco dove sono arrivate in questo weekend di Misano però appunto Rasgatioglu ha avuto veramente in due gare su tre vita facile, nella gara sprint ha avuto la meglio rispetto a Nicolo Bullega che poteva avere la chance di vincere ma appunto nonostante un grandissimo Bullega Rasgatioglu ha avuto la meglio evidentemente, anche sul pilota nato a Montecolo ma cresciuto a San Clemente e di conseguenza abbiamo tre vittorie molto molto importanti per un mondiale che invece vede un bautista arrancare, bautista che è caduto peraltro nella sprint race, una sprint race che sì è vero dà meno punti rispetto alla gara 1 e alla gara 2 ma è altrettanto vero che appunto ogni minimo punto in un campionato mondiale che vede 12 e 20 soltanto perso può evidentemente pesare il doppio e un ventunesimo posto di bautista in gara sprint race che vince ha dato già un primo strappo a una classifica del mondiale che adesso appunto come dicevamo in apertura di questo video vede Rasgatioglu prendere tappa e maglia, il turco è leader del campionato mondiale superbike con di fatto quattro vittorie consecutive tra qui a Misano e gara 2 qui ad Assen sono 179 i punti per il pilota turco per il quale suona il suo indio nazionale cioè la marcia dell'indipendenza, non può nulla un grandissimo Nicolo Bullega che questo weekend di Misano fa triplo secondari secondo Bullega aveva la chance secondo me di arrivare a un risultato un po' più importante ma contro questo Rasgatioglu c'era veramente tanto da fare evidentemente in questa diciamo due giorni di Misano il podio era già occupato per due terzi perché primo e secondo erano già predeterminati sono cambiati evidentemente chi si è qualificato al terzo posto che in due volte su tre è stato bautista ne ha approfittato invece Alex Lowe per piazzarsi appunto nell'ultimo grandino del podio nella appunto superport race un bautista che appunto è è caduto in questa frangente e ha preso zero punti Lowe che invece con questa Kawasaki che invece è cresciuta ha fatto una buonissima prestazione e ha completato un podio che altrimenti per tre gare consecutive avrebbe visto evidentemente ancora una volta le due Ducati che sulla carta hanno ancora una volta il pacchetto migliore in superbike arrivare a prendere due gradini sul podio su tre peccato che appunto a Misano pista congiale comunque Rasgatioglu ma non solo il turco abbia fatto il bello e il cattivo tempo ciò che mi ha colpito di top perché Rasgatioglu in questa due giorni di Misano è stato il modo in cui ha percorso la parte centrale del circuito per arrivare praticamente dal tramonto al carro come ha affrontato le curve in quel modo Rasgatioglu ha fatto veramente la differenza una pulizia di guida con pochissimi uguali una tecnica che evidentemente si addice a questa BMW M1000RR ma evidentemente solo per lui per fare un paragone con la Formula 1 è un po' come vedere Verstappen che guida una Red Bull che in questo momento non è la la moto più importante o meglio l'auto più importante ovviamente in Formula 1 ma appunto il pilota di turno riesce a guidare sopra i problemi e metterci tanto del suo complice anche un talento fuori dal comune ecco Rasgatioglu è praticamente questa versione qui al netto che Rasgatioglu di fatto dovunque è andato ha fatto o podio o vinto perché ha vinto sia con Yamaha che con BMW e ha fatto solo podio con Kawasaki Team Puccetti in ogni caso comunque è un weekend di Misano che consacra il turco come leader del campionato che era in aperta rimonta dopo aver fatto un grande exploit a Barcellona una gara un po' anonima ovviamente ad Assen qui a Misano invece è stato il vero e proprio dominatore per una Superbike che comunque conferma dei valori in campo molto importanti a partire da Andrea Locatelli che con una Yamaha decisamente in difficoltà comunque salva delle top 5 con costanza due quarti posti e un quinto posto per il pilota Bergamasco abbiamo un Danilo Petrucci che è stoico e si meriterebbe il premio del rider del giorno anche solo per essere tornato dall'infortunio dopo Assen e aver fatto comunque tre top 10 in tre gare diverse con un dolore atroce questa prova è stato veramente interessante ha fatto ancora una volta purtroppo fatica il campione del mondo plurimo Jonathan Ray che si è ritirato in gara 1 è caduto di fatto al primo giro e ha centrato delle top 10 ma della bassa top 10 quindi ottavo in sprint race e decimo nella gara 2 un Jonathan Ray veramente in disarmo la prossima gara ricordo che sarà Donington tra un mese e qualche voce dal paddock dice che il cannibale possa annunciare il ritiro dalle competizioni ma appunto staremo a vedere perché ricordiamo che da Misano a Donington passerà un mese il round britannico della Superbike sarà il 14 e il 15 di luglio che cosa ci dà però a questo round di Misano a parte un Rasgattioglu sontuoso appunto una Ducati ufficiale che comunque è confermata evidentemente come forza numero uno di coppia quantomeno per questa prima parte a lungo andare potrebbe essere ancora favorita ma il talento di Rasgattioglu è paritetico al pacchetto della Ducati Panigale V4R che abbiamo visto essere dominante non solo evidentemente in questo Superbike anche con le altre versioni quantomeno in Super Sport abbiamo visto invece una Kawasaki che è tornata evidentemente a dei livelli molto alti peraltro una Kawasaki che batterà di fatto l'ultima stagione nel 2024 e poi passerà di fatto a Bimota sappiamo che Alex Lowe si è stato confermato per il 2025 per Bimota che ovviamente fornirà il telaio Kawasaki non sarà più presente in questa veste ma soltanto come motorista infatti il team sarà Bimota by Kawasaki l'altra Kawasaki ufficiale è stata quella di Axel Bassani che dopo tre gare abbastanza orrende tra Melbourne, Barcellona e Assen a Misano complice anche il fatto che conosceva la pista ma anche per il fatto che il pacchetto della Z Ninja è stato sicuramente superiore anche Bassani ha fatto delle ottime gare undicesimo in gara 1 ma un ottimo 6 e 7 posto in sprint race in gara 2 complice il fatto che comunque anche Bassani adattandosi a questa Kawasaki col passare delle gare ha ottenuto quanto meno il passo similare ad Alex Lowe decisamente la Kawasaki più competitiva al netto che appunto l'hanno prossimo sarà Marchiata Bimota e Kawasaki sono stato un motorista e non più un telaista comunque appunto abbiamo questi valori ben definiti l'altra casa che si poteva aspettare un po' più costante ma magari in posizioni leggermente più alte è stata Yamaha che ha fatto bene in realtà solo con Andrea Locatelli Jonathan Ray ha fatto abbastanza fatica si è visto invece un buon Remy Garner con la Yamaha cliente del team GRT un po' meno invece Dominic Eggerter però comunque se è stato opposto per Garner non si buttano via in sostanza abbiamo un duello che potrebbe essere classificato a 3 più 1 secondo questa classifica del mondiale Razia Tioglu momento ha il momentum dalla sua quindi un'inerzia che lo porta evidentemente a competere per i massimi livelli e infatti ha una striscia aperta di 4 vittorie consecutive tra Hassan e Misano Bulega in questa pista di Misano ha fatto veramente il step successivo di qualità e potrebbe andando avanti andare anche a competere per qualche vittoria di tappa e quindi anche di conseguenza per il mondiale Bautista lo conosciamo annetto che a Misano ha preso praticamente non dico la pista da Bulega ma comunque oggi era nettamente inferiore e questi sono i tre che si possono giocare questo mondiale superbike il quarto è Alex Lowe che comunque è sempre costante ha una Kawasaki che gli si addice e quindi non è incredibilmente ancora dato per morto Alex Lowe in seconda fascia potrebbe invece mettere sicuramente una Yamaha che potrebbe dare comunque qualche spauracchio qui e lì quantomeno per il podio tutte le altre sono più o meno after the music a cominciare anche dalle altre BMW e quando dicevo che appunto è Raz Gattioglu che ci mette tanto di più rispetto alla BMW lo vediamo nei piazzamenti evidentemente delle altre moto tedesche perché per esempio Michael Vandermark fa soltanto una gara a punti ottavo in gara 1 Garlett Gerloff neanche un punto a Misano Scott Redding non ne parliamo punti bassissimi della classifica insomma tanta fatica per la casa di Monaco che ha preso sì un talento incredibile la moto sarà plasmata evidentemente per le caratteristiche di Raz Gattioglu ma appunto di base senza Raz Gattioglu la BMW farebbe oltremodo fatica e sarebbe ai livelli degli educati clienti di fascia B della Kawasaki clienti del team Puccetti della Honda ufficiale clienti non fa differenza insomma tanta fatica per questa BMW di base se non ti chiami Raz Gattioglu ma Raz Gattioglu appunto è l'investimento plurimo che ha fatto la casa di Monaco e evidentemente al momento sta pagando e quindi potremmo vedere chissà un Raz Gattioglu vincere con due marche diverse nel giro di tre anni ricordiamo che Raz Gattioglu è campione del mondo superbike ma nel 2021 con Yamaha battendo Bautista in un mondiale comunque decisamente tanto bello tornando insieme invece agli altri italiani abbiamo già parlato di Petrucci che ha fatto una grandissima gara Iannone complice anche una anche qui grande adattabilità a Misano fa settimo quinto e undicesimo quindi tre gare a punti consecutive ancora una volta per Iannone c'era Michael Rinaldi che purtroppo i piazzamenti non ne porta a casa rispetto ai tempi di quando era con la Ducati ufficiale fa soltanto una gara a punti quattordicesimo in gara 1 c'era anche Michele Pirro che per regolamento non può fare wildcard in modo GP la fa invece in superbike una gara a punti per il pilota collaudatore storico della Ducati con un tredicesimo posto in gara 1 tra un mese esatto si correrà a Donington Park circuito che sulla carta potrebbe essere ancora favorevole a Raz Gattioglu visto che non è una pista così tanto stop and go ma molto tecnica e molto complicata e quindi anche qui il turco potrebbe avere qualche vantaggio vedremo però che sappiamo che il meteo inglese spesso regala emozioni quindi con gare bagnate e incerte questa era la superbike parliamo anche delle altre categorie perché se Ducati domina in superbike quanto meno prima di Assen non qui a Misano lo fa anche in super sport un grandissimo duello in gara 1 tra Iari Montella e Adrian Huertas da spettacolo in gara 1 alla vince alla fine Adrian Huertas per pochissimi millesimi dopo che Montella ha fatto tutta la gara in testa sbaglia però l'ultima curva alla Misano 2 perde il posteriore Huertas che gli è stato appicciccicato come un francobolla una lettera riesce alla fine ad avere la meglio per 27 millesimi e alla fine vince gara 1 gara 2 è oltremodo spettacolare la vince sempre Adrian Huertas che però qui ha un passo decisamente superiore però ad un certo punto ha un enciampo sbaglia perde tempo alla fine recupera il tempo perso con un 37-14 nuovo record della pista in gara per lo super sport e vince e per due volte suona dunque la marcia reale l'inno nazionale spagnolo per una gara 1 che alla fine vede Iari Montella due volte sul podio due volte secondo cambia semplicemente chi ha fatto il terzo posto in super sport nella prima gara è stato Stefano Manzi con la Yamaha del team Tencate mentre in gara 2 è stato il francese Valentin de Biz sempre con Yamaha ma del team appunto Evan Bross per una classifica che vediamo qui sulla sinistra qua stiamo prendendo direttamente le fonti dal sito della Superbike con Adrian Huertas che adesso si conferma leader del campionato con 136 punti però soltanto 11 lunghezze di svantaggio se pagano Iari Montella dalla leadership del campionato Manzi è più staccato indietro a 114 ma Manzi sembra guidare molto più sopra i problemi di questa Yamaha 600 che non è così tanto competitiva rispetto magari alla stessa Ducati o all'MV Agusta prima di questa gara in ogni caso è un campionato super sport che verosimilmente vedrà un duello tra i due piatti della Ducati uno è team Aruba quindi Quertos l'altro è team Varni Montella ha corso anche la Super Sport 300 nelle solite gare di gruppo una Super Sport 300 che vede la leadership di Irigo Iglesias che è un pilota di rientro quest'anno in categoria Iglesias vince gara 1 in volata sull'indonesiano Aldi Maendra soltanto 21 millesimi separano appunto lo spagnolo dall'indonesiano terzo invece è il pilota di Fano Mirko Gennai che conquista il primo podio della stagione in una gara clamorosa di 600 o meglio di 300 una 300 che dà spettacolo ovviamente è una sorta di moto 3 ricordiamo ma delle derivate dalla serie con 4 costruttori protagonisti comunque vincono in gara 1 Kawasaki in gara 2 ovviamente vince Yamaha con ancora Aldi Maendra che stavolta la volata la vince sempre su Irigo Iglesias terzo ma appunto in mezzo si inserisce il campione in carica Jeffrey Buis su KTM di conseguenza ha suonato l'inno nazionale spagnolo in gara 1 per Irigo Iglesias suona invece l'inno nazionale dell'Indonesia per Aldi Maendra che è Indonesia Raya grande Indonesia per tradurla dalla lingua locale un Aldi Maendra che vince la terza gara in carriera e si issa in seconda posizione in questo mondiale della Super Sport 300 che vede Irigo Iglesias primo con il 98 e terzo lo staccato Daniel Mokeda a 63 Mokeda però che non ha raccolto punti in questo dopo weekend di Misano è caduto in gara 1 e non ha corso gara 2 il migliore italiano in questo momento è Marco Gaggi che invece ha fatto delle buone risultanze in questa gara di Misano si è risollevato invece Mirko Gennai che rettifica un pilota toscano ed è uno dei grandi protagonisti l'anno scorso quest'anno deve ancora ingranare ma Gennai comunque ha fatto il primo pod in stagione ma appunto il pilota toscano ha cambiato moto e è passato da Yamaha a Kawasaki Team MTM Parliamo però di un'altra categoria che invece ha avuto ancora una volta un dominio una categoria al debutto per la prima volta nella storia in assoluta del mondiale Superbike a corso nella categoria proprietà che il World Circuit Racing che è di fatto il mondiale femminile di Superbike o meglio di classe di supporto alla Superbike un mondiale appunto dedicato a sole donne un monomarca Yamaha R7 che vede pilote molto interessanti dal parterre e dal know-how molto interessanti vedi per esempio la qui inquadrata Maria Herrera ma abbiamo per esempio Anna Carrasco Beatrice Neila Sara Sanchez Tutti i piloti che hanno gareggiato anche nei vari mondiali soprattutto Carrasco e Herrera hanno corso in Moto3 Carrasco ha vinto anche un mondiale tra i marchi in SuperSport 300 e infatti questi non sono stati quelli assolutamente più competitivi in un campionato femminile che ha esordito per una volta nella storia e che ha visto il trionfo due volte di Maria Herrera dunque risuona la marcia reale per la pilota che si è iscritta in realtà qui solo come wildcard con una Yamaha del team forward in realtà dovrebbe correre a full tempo diciamo in MotoE Per il resto dovrebbero giocarsela Sara Sanchez Anna Carrasco e Beatrice Neila Beatrice Neila che ha fatto il giro veloce in gara 2 Anna Carrasco invece che raccoglie soltanto due podium che era partita con le intenzioni per vincere Maria Herrera invece fa delle gare capolavoro vinte di fatto quasi praticamente allo sprint con degli ingressi sensazionali e dei duelli molto interessanti in gara 1 con Anna Carrasco che finisce seconda nella gara 2 con appunto la stessa Sara Sanchez con Maria Herrera che si diventa un sorpasso incredibile alla misano 2 Italia traguardo per prima suona due volte la marcia reale per appunto questa prima gara di misano che vede le spagnole dominanti 4 spagnole nelle prime 4 posizioni la migliore italiana è l'abruzzese Roberta Ponziani che in realtà ha tanto valore da dimostrare è una campionessa italiana di questa categoria nonché seconda all'europeo e 24 punti in due gare sono un buonissimo viatico 2 top 5 per Roberta Ponziani che in gara 1 poteva puntare al podio invece in gara 2 era decisamente più staccata c'è però già comunque un grande distacco perché fino alla sesta la cilina Isis Carregno se la possono tutte giocare per il podio e la vittoria dalla settima in poi l'israeliana Randall Rochai se la giocano per le posizioni che non contano cioè praticamente i punti e i piazzamenti platonici c'è veramente un grande distacco ma comunque ci può anche stare per un campionato che è all'esordio assoluto e che è stato caratterizzato comunque dalla grande foga delle ragazze di mettersi in mostra certo che l'eccessiva foga ha causato troppi incidenti anche gravi vedi per esempio la norvegese Miel Rusten che è ancora in condizioni da monitorare all'ospedale Buffalini di Cesena però poi anche altri incidenti vedi per esempio l'Austria Calena Kemmer tante cadute gratuite che in gara 2 non si sono per fortuna viste e quindi il mondiale femminile deve ripartire da questa gara 2 una cara femminile che appunto vede 6 eventi in programma fino a Cremona che peraltro guarderò dal vivo avverranno ovviamente notizie in tal senso. La Superbike invece in toto ricordo tornerà a Donington Park tra un mese e 14 e 15 luglio il weekend da segnarsi e quindi anche qui parleremo nel The Racing Podcast dedicato. Il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video.